vaccinazioni per cinque giorni anche i maturandi delle marche il comune di pesaro acquista anche l'ultima parte del vecchio palace teatro e musica 30 spettacoli estivi al miralfiore alla scoperta delle carte ritrovate del san benedetto buona serata a tutti voi telespettatori di rossini tv che come ogni sera ci seguite in occasione del nostro telegiornale rossini news telegiornale che in questo martedì primo giugno apriamo dedicando attenzione alla situazione sanitaria nella nostra regione le marche infatti abbassano nettamente l'età anagrafica dei propri vaccinati perché da domani e per tutta la settimana a potersi vaccinare saranno anche gli studenti che affronteranno l'esame di maturità vediamo con quali modalità nel nostro primo servizio a giugno le marche abbassano vertiginosamente la popolazione dei suoi vaccinati da domani al 6 giugno a poter iniziare la profilassia anti covid saranno addirittura gli studenti diciottenni che affronteranno il prossimo esame di maturità apparecchiati 5 vax days da mercoledì a domenica in cui potenzialmente saranno vaccinabili 13.600 maturandi marchigiani potranno accedere ai 16 punti vaccinali della regione che sono quattro per quel che riguarda la provincia di pesaro urbino a pesaro l'ex tristò e l'ospedale san salvatore affano il codma a urbino il bocciodromo di viale neruda proprio come a scuola si procederà per appello in ordine alfabetico da domani toccherà i maturandi che hanno il cognome compreso fra le lettere a e c da giovedì quello fra dl e via via fino alla z di sabato domenica invece vaccinazioni aperte a prescindere dal cognome i maturandi potranno presentarsi ai punti vaccinali senza prenotarsi ma dovranno comunque compilare i moduli di adesione scaricabili dal sito della regione marche vaccini dunque che da giovedì si allargeranno anche alla possibilità data alle regioni di programmare inoculazioni senza restrizioni anagrafiche le marche puntano così a raggiungere il milione di vaccinati con la prima dose entro il completamento del mese di giugno magari trovando un'accelerata anche dalle vaccinazioni in ambito aziendale categoria in cui ad esempio è pronta a partire marche multiservizi un'altra dinamica che stiamo mettendo in campo come welfare aziendale abbiamo come partner un industriale iera che ha messo a disposizione una serie di attività e marche multiservizi sarà il primo hub del gruppo a mettere a disposizione i propri luoghi per vaccinare nelle prossime giornate poi si aprirà la fase vera e propria di vaccinazione e i dati sui contagi nelle marche scendono ai minimi assoluti oggi il rapporto fra tamponi positivi e testati si attesta infatti al 3,3 per cento appena 34 i casi positivi in regione su 1031 nuove diagnosi per 2335 tamponi totali solo 14 i casi positivi in provincia di peso urbino sempre meno anche i ricoverati ora sono 126 nelle marche di cui 23 in terapia intensiva nella giornata di ieri si sono registrati anche due decessi di marchegiani contagiati da covi 19 5 milioni investiti nel sociale e mille volontari coinvolti e questa la portata dell'impegno del comune di pesaro che il sindaco matteo ricci ha voluto enfatizzare oggi in un video che ha divulgato sui suoi canali social spronando alla ripartenza della città dopo 15 mesi di pandemia vediamo il video sono stati 15 mesi intensi nei quali non ci siamo risparmiati dal primo minuto abbiamo detto che la porta del sindaco del comune era l'ultima che poteva chiudere e così è stato e abbiamo investito risorse straordinarie siamo riusciti a trovare 5 milioni di euro per aiutare le persone in difficoltà e al tempo stesso abbiamo messo in campo circa mille volontari non ci siamo riusciti a trovare le persone in campo teniamo botta come abbiamo sempre detto ma adesso dobbiamo correre per rinascere perché vogliamo la nostra città sempre più bella e al tempo stesso sempre più libera forza pesaro ripartiamo insieme dopo sette mesi le consiglio comunale di peso è tornato ieri finalmente in presenza e ha registrato anche novità importanti per quel che riguarda il vecchio palasport il cimitero centrale e alcune possibilità di accedere a fondi e finanziamenti europei dopo sette mesi il consiglio comunale di pesaro è tornato a riunirsi in presenza per l'occasione l'ha fatto spostandosi dal municipio alla sala del consiglio provinciale pierangeli a catalizzare l'attenzione dell'assise il vecchio palasport di viale dei partigiani e i lavori al cimitero centrale san decenzio due cantieri aperti che cambiano passo dopo l'approvazione con 23 voti favorevoli e otto contrari alla variazione al piano triennale delle opere pubbliche presentata dall'assessore all'operatività enzo belloni idem con la variazione al bilancio di previsione 2021-2023 su delibera discussa dall'assessore riccardo pozzi una delibera che ha contemplato l'acquisizione da parte del comune di pesaro dell'intera area relativa al vecchio palasport nello specifico verrebbero acquistati i 900 metri quadrati restanti destinabili ad attività commerciali su viale marconi che finora appartenevano a pesaro parcheggi per pozzi si tratta di un'operazione virtuosa e strategica che porterà al comune fino a 1,7 milioni di euro di finanziamenti dal gse altrimenti bloccati un'acquisizione in linea all'accelerata che si vuole imprimere alla realizzazione in corso del nuovo auditorium sul palasport accelerata che invece non ci sarà al cimitero centrale nel piano presentato da belloni il primo stralcio di lavori sulle facciate esterne partirà a settembre il secondo stralcio previsto per sistemare la trascinata questione del padiglione dei fiori è al momento rimandato si tratta di una mossa contabile che consentirebbe di deviare l'intercettazione di oltre 20 milioni di euro di finanziamenti europei di rigenerazione urbana che potrebbero far svoltare per la ricostruzione delle scuole dell'infanzia in via rigoni e via atti oltre a coltivare concretamente l'idea di realizzare il museo vangi dentro palazzo mazzolare mosca mettere mano al san domenico appena acquistato e ristrutturare la sede della biblioteca oliveriana approvata anche la delibera presentata dall'assessore alla rapidità andrea nobili per recuperare l'ex palazzina enel di via uozi chiusa dagli anni 90 previsto un cambio di destinazione d'uso da servizi a terziario residenziale incidente stradale questa mattina sulla monte labattese dove un 74enne alla guida di una punto si è messo nel centro abitato di apsella in direzione morciola scontrandosi con un motociclista alla guida di una ducati monster che è caduto rovinosamente sull'asfalto il ferito è stato trasportato in stato di coscienza all'ospedale torrette di ancona un altro incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a pesaro in zona mare zona porto all'incrocio tra viale gorizia e viale della vittoria dove si sono scontrate due autovetture domani mercoledì 2 giugno pesaro celebra il 75esimo anniversario della fondazione della repubblica italiana una cerimonia che prevede alle 10 il cerimoniale dell'alza bandiera in piazza del popolo e la deposizione di una corona nella cappella votiva di sant'ubaldo alle 10 30 nel teatro rossini si terrà una cerimonia di benemerenze in cui il nuovo prefetto tommaso ricciardi conferirà 54 onorificenze dell'ordine al merito della repubblica e 5 medaglie d'onore alla memoria è stato approvato in giunta comunale a peso il progetto da 440 mila euro che prevede nella scuola primaria anna frank di santa maria delle fabrecie la realizzazione di un parcheggio pubblico una nuova illuminazione e il collegamento tra strada della pozzetta e caprilino il vice presidente della regione marche mirco carloni ha annunciato oggi la pubblicazione del bando che assegna un milione di euro per sostenere l'avvio di nuove start up innovative un bando che sarà attivo dalle ore 10 del 15 giugno sino alle ore 13 del 10 settembre e si rivolge a tutte le aziende iscritte nell'elenco speciale delle start up innovative della camera di commercio è previsto un contributo a fondo perduto pari al 60 per cento delle spese ammesse nel limite massimo di 100 mila euro a progetto ed ora lo spazio che come ogni sera dedichiamo alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero whatsapp dedicato 370 366 7210 questa sera a distanza di un mese ci scrive nuovamente patrizio residente di via madonna di loreto nella cosiddetta zona della polveriera che ci mostra come in questa zona si ripeta sistematicamente l'abbandono o accantonamento di diversi materiali relativi ai cantieri di opere stradali che per anni si sono tenuti che da anni si tengono in questa parte di città dunque una richiesta d'attenzione su una zona che continua a reclamare maggiore decoro e dopo un inverno di blocco pressoché totale agli eventi culturali l'estate sembra prepararsi a compensare tutto questo digiuno saranno infatti 30 gli spettacoli in due mesi che si alterneranno sul palcoscenico dell'anfiteatro del parco miralfiore sarà l'inedita interpretazione di elio alle note ai pensieri di enzo giannacci ad accendere il 18 giugno microfoni e amplificatori nell'anfiteatro del parco miralfiore in occasione di mira al teatro d'estate 2021 un cartellone ricchissimo di 30 spettacoli compressi in due mesi e confezionati da amat comune orchestra sinfonica filarmonica rossini ente concerto e teatro accademia un'offerta in cui riassaporare spettacoli per tutti i gusti dopo le lunghe privazioni invernali sono 30 sere di festa 30 sere di spettacolo in cui si possono attraversare le emozioni più diverse grazie ai protagonisti grandi giovani diversi della scena nazionale e internazionale sicuramente con tante eccellenze insomma a partire dall'apertura che affidata ad elio che debutta qui in anteprima nazionale col nuovo lavoro dedicato a gli annacci per poi incrociare davvero in una rida incredibile di proposte di proposte di evasione proposte di riflessione comicità intelligente grandissima musica tantissime le proposte di musica appunto degne della città della musica quale pesaro è quindi direi una lunga festa in 30 appuntamenti che dal 18 di giugno fino al 19 agosto faranno del teatro del parco davvero un luogo ancora più bello e ancora più ambito anche perché si sta benissimo in quel posto lì anche quando impazza la calura e anzi bisogna sempre portarsi una felpina in più e a parte gli scherzi appunto un teatro all'aperto che in qualche modo risarcisce la città e chi la ama e chi la frequenterà anche della lunga pausa c'è stata una specie di disperata vitalità nel programmare con una grande voglia di tornare appunto a fare proposte di ogni tipo non lesinando appunto davvero davvero nulla ancora cultura perché l'ex complesso psichiatrico san benedetto si metterà in mostra in provincia e all'archivio di stato con una esposizione di reperti recentemente ritrovati che sarà visitabile già da giovedì vediamo il servizio tre mostre per approfondire e capire quello che è stato l'ospedale psichiatrico san benedetto è un grande lavoro interforze quello messo in piedi da provincia di pesaro urbino associazione quarter mass x liceo mengaroni ente olivieri e archivio di stato fulcro portante del percorso culturale sarà la mostra che si terrà dal 4 al 14 giugno nella sala a delle bei della provincia incentrata proprio sulle carte ritrovate dell'ex manicomio carte che a lungo sono state custodite da emilia balduini la conservazione è avvenuta negli anni perché comunque queste carte sono state custodite all'interno dell'ufficio tecnico nel mio ufficio della provincia e quindi dai miei colleghi che nel passato hanno lavorato su queste tavole o comunque le hanno tenute poi chiaramente nel passare del tempo come tutte le cose che si conservano progetti eccetera del passato io ho conservato oltre ai progetti dell'ufficio anche queste cartelle che ho chiamato le cartelle d'altri tempi in maniera così negli anni e nel mio nella mio archivio poi nel 2019 io ho deciso di andare in pensione per cui restituendo un po tutto il lavoro fatto ho pensato anche di dover in qualche modo collocare queste cartelle contenenti disegni elaborati interessanti dal punto di vista storico e grafico e al momento in quel momento mi è venuto ho avuto l'idea di chiamare roberto vecchiarelli e di consultarmi con lui e fargli vedere il materiale e insieme abbiamo deciso che il valore effettivamente storico delle carte era notevole sempre dal 4 al 14 giugno nella sala mari della provincia si terrà anche l'esposizione più partecipazione innovazione urbana sui progetti del san benedetto a cura degli studenti del liceo artistico mengaroni e dal 7 al 26 giugno la terza mostra che troverà spazio nei locali dell'archivio di stato il san benedetto studi e materiali delle cartelle cliniche dal 1870 al 1872 i cittadini vedranno in questa mostra le carte progettuali del san benedetto per quanto riguarda soprattutto la parte di primo ampliamento del 1834 realizzata a pompeo mancini per cui abbiamo un architetto rilevante per per pesaro perché è legato a tante altre strutture di quel periodo come la pescheria gli orti giuli eccetera sono dei disegni tra l'altro molto belli che permettono però di inserire l'edificio all'interno di un contesto più ampio cioè di relazione con gli orti giuli di attenta cura del verde di monumentalizzazione della parte dedicata alla presenza appunto nel giardino di bernardo e torquato tasso per cui si vanno a leggere diciamo più elementi della storia pesarese legata a un periodo importante come quello del ducato ma legato anche a quel periodo della legazione pontificia dove comunque ci fu una sistemazione della città piuttosto interessante anche un'attenzione grazie anche a personaggi attorno come gordiano perticari relativa alla sensibilità sulle problematiche come ad esempio quella della follia e quindi l'idea di costruire un edificio che potesse essere dedicato alla cura della malattia mentale e concludiamo il nostro telegiornale con un importante messaggio di sensibilizzazione ad una malattia che colpisce i bambini si tratta dell'osteosarcoma c'è infatti tempo fino al 6 giugno per sostenere l'aisos con una piccola donazione che può fare però tanto nel aiutare la ricerca nei confronti di questa terribile patologia una malattia che ci viene illustrata dalla dottoressa francesca maddalena terraciano fondatrice appunto della associazione italiana studio osteosarcoma l'osteosarcoma che è un tumore osseo maligno che si manifesta principalmente nei bambini in tenere età nella prima e nella seconda decada di vita e poi può manifestarsi anche dopo i 60 anni c'è una fasciata del 20 per cento si manifesta all'improvviso con un livido che non passa con un dolore acuto per lo più notturno che aumenta e diventa prima intermittente poi diventa persistente il processo neoplastico porta la distruzione nel normale tessuto osseo in alcuni casi può indebolire questo tumore la struttura dell'osso al punto di provocare fratture patologiche che sono considerate fratture spontanee senza una caduta pregressa senza qualcosa che possa causare la frattura non c'è la tecnologia sconosciuta è chiamato sarcoma osseogenico ed è il tumore dell'osso primitivo che si sviluppa a partire proprio dal tessuto osseo che non va confuso con le metastasi osse fondamentale invece che di fronte a qualcosa di sconosciuto invece di perdere tempo indispensabile migrare da un punto all'altro fare una radiografia una radiografia con l'esame e il riferto del radiologo il quale manifesta la diagnosi certa che non è che è una neoplasia e che non è una frattura o qualcosa di diverso la cosa fondamentale è che l'intervento immediato dopo la radiografia è rivolgersi al centro AISOS dove un'equipe multidisciplinare prende in carico il piccolo paziente e un'equipe di psichiatri si occupa della famiglia sono Giancarlo Giannini l'AISOS è un'associazione di medici ricercatori che curano una gravissima malattia la stessa sarcoma una malattia che prende i bambini che prende le ossa con le ricerche che stanno facendo questi medici volontari si spera di poter arrivare ad una ricerca conclusiva che guarisca tutti bambini mandiamo due euro con un sms o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45581 perché serve a far crescere queste piccole margherite bene nella vita e con questo importante messaggio di sensibilizzazione all'osteosarcoma si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale prima di salutarci però vi ricordiamo qualche appuntamento a cominciare dalla nostra prima serata che comincia alle 21 e 15 con un approfondimento dedicato ai corsi serali dell'istituto benelli di pesero in particolare ci concentreremo sul cosiddetto corso aso a seguire alle 21 e 30 il nostro speciale realizzato in occasione di del micro festival di poesia parole di mezzeria tra i due canti si è trattato di un particolare festival appunto che si è tenuto tra sul monte san bartolo tra fiorenzola di focara e gradara con poesie che come vedete dalla grafica sono state anche realizzate appunto in questa cosiddetta strada di mezzeria appuntamento dunque alle 21 e 30 a seguire alle 22 e 15 spazio alla musica con lo spazio web o live parleremo di poesia nuda nel nostro format condotto da michele panzieri e topazio perlini l'appuntamento dunque alle 22 e 15 oggi come ogni giovedì poi il sabato potrete rivedere entrambe le puntate del martedì e giovedì in un unico contenitore in programma alle ore 21 domani 2 giugno la rassegna stampa buongiorno rossini come sempre sarà in diretta alle 7 e 20 e per l'occasione sarà condotta come vedete in grafica da marco cadedu e come sempre vi ricordiamo di scaricare l'app di rossini tv uno strumento fondamentale per avere sempre a portata di click la possibilità di vedere i nostri programmi le nostre notizie o anche semplicemente per inviarci segnalazioni e vi ricordiamo che domattina 2 giugno si terrà in piazza del popolo una cerimonia in occasione del 75esimo anniversario della fondazione della repubblica cerimonia che potrete seguire in diretta su rossini tv a partire dalle 10 sul canale setre tele del digitale terrestre o anche sui nostri canali social è davvero tutto per questa nostra edizione delle telegiornale da parte mia e di tutta la redazione di rossini tv il più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i nostri programmi